Cari amici di Unumismatica for Dummies, benvenuti sul canale. Oggi vi porto la 100 lire FAO, cosiddetta secondo tipo. Vi ricordate? C'è stato un primo tipo coniato nel 79, che abbiamo trattato nei giorni scorsi. Questa moneta, coniata nel 95, per cui cambia la tipologia, diventa in nickel, più piccola. Ne scriviamola un attimo. Sul rovescio abbiamo un globo terrestre stilizzato, poi una spiega di grano e un rametto di olivo che si intrecciano sul valore nominale, 100 lire. In alto, scritta FAO e la ricorrenza 1945-1995. Sul dritto, come le altre 100 lire in nickel, abbiamo la scritta Repubblica Italiana e un'Italia torritta, volto di donna torritta. Allora, il contorno è godronato, vuol dire alternarsi tra rigato e liscio. Bene, cari amici, io vi ringrazio. Se questo contenuto vi è piaciuto, vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale. Grazie mille.